Vediamo cosa diceva Draghi nel 2022 quando vennero immediatamente applicate le sanzioni alla Russia perché c'era stata questa invasione, quindi noi non commentiamo adesso la questione invasione, non invasione, il Donbass, tutta questa roba qui la lasciamo ad Orsina, il professor Orsina, la lasciamo ad altri e non è questo il momento. Però siccome ci fu questa cosa i grandi scienziati europei, occidentali, che non vedevano l'ora di poter dargli a Putin, quindi alla Russia, al blocco asiatico, hanno iniziato con le sanzioni. Perciò adesso questo lo stronchiamo e raccontiamo a tutti i cittadini dell'Occidente, italiani brocchi fessi in primis, che noi siamo forti e che questi creperanno domani mattina. Sentiamo cosa diceva Draghi. Le sanzioni che abbiamo imposto a Mosca hanno avuto un effetto dirompente sulla macchina bellica russa, sulla sua economia. Si è visto. La Russia fatica a fabbricare da sola gli armamenti di cui ha bisogno, poiché trova difficile acquistare il materiale necessario a produrli. Il Fondo Monetario Internazionale prevede che l'economia russa si contragga quest'anno il prossimo di circa il 10% in totale, a fronte di una crescita intorno al 5% ipotizzata prima della guerra. Che genio! Un genio vero! Pensate che questo genio che aveva previsto tutta sta roba, che non se ne è verificata neanche mezza, cioè è successo l'esatto contrario, proprio in questi giorni ha presentato il grande piano per l'Europa, se no crepa, 800 miliardi di quadri, di dollari, di euro, eccetera, 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 che i giornali subito abbiamo... Io, guarda, ti giuro, passando vicino alle redazioni dei giornali, dovevo passare con un impermeabile bello coperto perché la bava mi avrebbe travolto e quindi avevo paura di bagnarmi, perché le lì... No, c'erano tutte le lingue di fuori. Bravo, bravo, è chiaro, no? Però è chiaro che è una puttanata gigantesca quella che ha detto. Che è il pari di questa o di altri, ti vaccini, ti ammali, muori, tutta questa roba qua. Cioè è una collezione di scemenze, aggiungiamo pure questa. Tant'è che Putin, a distanza di due anni, eccetera, che la sua economia non mi pare... Cioè io prendo atto, no, così, proprio da reporter di un fatto. Non mi pare che sia accaduto quello che dicevano. Anzi il contrario, Putin, infatti, ad un forum per l'economia orientale, proprio tre, quattro giorni fa... Prego, vediamo cosa dice Putin. Questo è un filmato che ha rilasciato l'ambasciata russa, ma ovviamente non ripreso da nessuno, noi per dovere di cronaca, perché il dovere di cronaca è sempre fatto salvo in una vera reale democrazia, in un mezzo indipendente, lo proponiamo. Prego. ...e tutto è accaduto, il nostro gas, l'efficio, e così via. Ma la economia mondiale non si tratta di così accaduto. Solo le città si crescono al cielo, e ancora ieri devono comprare. Non è possibile. In questo è tutto. Perché quando i nostri недоброжелati e i te, che vanno in un'inizio, che ha parlato il Presidente del Città Narello Riespubblico, facendo questo, non è giusto il cervello, ma non è un grande uomo, come in questo caso, perché risultata non è. ma sono riconoscibili solo con la sicurezza e la sicurezza, ma è un risultato, è un risultato. Quindi noi le problemi rischiamo, sì, con le quali potere, ma comunque si è riuscita, ma tutti che non vogliono sotruire, che non vogliono, allora che non vogliono sotruire, ma che vediamo, che in europei stanno succedendo. Molte di loro balanciano la grana rizessia, e la situazione è usugurabile, Perché i nostri interessi, che hanno iniziato a loro interessi, siano i nostri interessi, i nostri interessi, i nostri interessi, i nostri interessi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qui c'è poco da scherzare perché Putin ha detto una cosa. Hai ragione. Vediamo cosa scriveva Federico Fubini sul Corriere della Sera, proprio nel bel mezzo di tutto questo casino che avevamo noi dell'energia. Qual è il paese che ha rimesso più di tutti? L'Italia. L'Italia ultima nei prezzi. La Cina li abbatte. Però dicono tra parentesi ma è una bomba ecologica. E vabbè sarà pure una bomba ecologica però intanto loro vivono bene e noi qui abbiamo chiuso una marea di imprese tra fallimenti, suicidi. Un macello, un macello signori. L'Italia è in vetta, in testa alla classifica dei costi dell'energia e ce lo dice anche, andiamola a vedere, così facciamo velocemente e poi lasciamo la parola ai nostri, i prezzi dell'elettricità. C'è un sito mondiale ovviamente che riporta i prezzi dell'elettricità e riporta tutto quanto è legato all'energia in generale. Iniziamo dai prezzi dell'elettricità. È chiaro, è molto piccolo per chi lo sta vedendo in tv, se magari la regia potesse zoomare un bel po' sui prezzi dell'elettricità. Questi sono i prezzi dell'elettricità, ancora un po' ragazzi per favore, facciamo tutto in diretta perché è ancora meglio, lo centriamo un po' se è possibile. Comunque è leggibile per chi ci sta guardando anche in tv. I prezzi dell'elettricità sono questi negli altri paesi, fermi lì. Noi abbiamo, partiamo dall'Iran che è a due millesimi di euro, due millesimi di euro al kilowattora, due millesimi di euro. E' chiaro? Poi l'Etiopia, il Sudan, la Siria, Cuba, l'Iba eccetera eccetera eccetera, c'è anche la Russia qua nei posti più bassi come possiamo vedere, dei prezzi dell'elettricità e tutta una marea di paesi. Poi saltiamoli tutti ragazzi, andiamo velocissimo perché qua stiamo parlando di tutti i paesi del mondo che hanno prezzi bassissimi dell'energia elettrica e dentro ci sono anche molti nostri concorrenti dell'industria, della manifattura eccetera. Se andiamo a vedere in fondo alla classifica del mondo, ma guardate anche il grafico per chi lo sta guardando, come sale? Perché noi siamo passati da una barra che rappresenta i due millesimi di euro al kilowattora, eccola lassù, in fondo all'Italia, perché l'Italia è negli ultimi posti, gli ultimi tre posti, pensate, è terz'ultima nel mondo con il prezzo dell'energia elettrica. 0.418, cioè 418 millesimi di euro, 41 centesimi, 42 centesimi. Va bene? Andiamo in fondo a vedere l'Italia, per favore, in fondo a vedere l'Italia. che è giù, 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 prova alla fine del grafico, in fondo proprio. Eccola là, sì sì, c'era, 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 stava a posto come era. Sì 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 sì, in fondo. Benissimo, scusate ma io perché la sto vedendo su un foglio di carta e qui non guardo il mondo. Eccola lì, in fondo c'è l'Italia, eccola lì, terz'ultima, terz'ultima. Quindi da due millesimi a 418 millesimi c'è una valanga di roba sopra, no? Ma anche se andiamo a vedere la Danimarca e la Svizzera sono sempre lì in fondo, però già parliamo di 10 centesimi, cioè già un terzo in meno, già negli ultimi posti, come vedete anche dal grafico, siamo noi che scaliamo la marcia verso l'alto, ok? Come possiamo essere competitivi? Come possiamo, soprattutto, ma sì già con i paesi europei, ma anche con tutto il resto dei paesi del mondo? Come possiamo essere competitivi col mondo intero? Quindi cosa facciamo? Andiamo a produrre là, poi però importiamo di qua dazi, tasse, diciamo che poi portano guadagni agli altri paesi e agli intermediari che si arricchiscono e che mettono i loro sordi certamente non in Italia, fuori. Ragazzi, io sono allibito, poi potremmo andare anche sul gas naturale, potremmo andare sulla benzina, ma non ci abbiamo tempo. Vanni e Alberto, ragazzi, abbiamo sentito Draghi che diceva che la Russia sarebbe morta dopo 5 minuti perché le nostre sanzioni, noi siamo fighi di qua e di là, eccetera. Quello che dice, seduto tranquillo, oggi a distanza di due anni, non lo volevate il nostro gas, la nostra energia? Chi se ne frega? Oh, se lo volete sta sempre qua, eh, a un quarto o un quinto del prezzo. Venitevela a prendere, che volete da noi? Se no, vendiamo un altro, ci rimetteremo un po'. Sti cavoli, comunque il nostro popolo sta bene. Porca puttana! Vanni. Sì, non solo, ma come ti ho detto, l'Europa non rappresenta se stessa. L'Europa è entrata in sanzioni, in una forma, se vuoi, ibrida di guerra a distanza, in qualche maniera, con la Russia, appunto con delle sanzioni che erano costruite non tanto per fermare la Russia, che ovviamente ha aperto ad altri mercati, alla Cina, all'India, all'Iran e via, dicendo, e non ha problemi comunque a vendere il proprio prodotto, soprattutto a quei prezzi. Il risultato finale è stato quello dell'impoverimento globale di tutta quanta l'area europea. La Germania, che da sempre fa da capofila, sta mostrando anche un problema industriale che è diventato veramente importante. Ma tutto questo, uno pensa che sono in qualche maniera incompetenti, ma non sono incompetenti, è tutto quanto voluto. Il vero punto è che l'Europa in qualche maniera deve perdere sempre più influenza, oramai tra l'altro non contiamo già praticamente più niente. In qualche maniera, quello che importa sono i due blocchi che si stanno andando in qualche maniera a formare, con il problema che l'America comunque non si trova, né con l'esercito di un tempo, né con la capacità economica di un tempo, che è perché si sta passando pian piano, anzi velocemente, alla dedolarizzazione delle gran parte delle transazioni economiche e quindi stiamo vedendo comunque la fine di quello che è stato l'impero che in qualche maniera ha dominato la storia a livello globale negli ultimi cento anni. Questo ovviamente andrà incontro a un cambiamento, soprattutto perché, come giustamente dicevi tu, stiamo parlando di percentuali che sono i visori rispetto alla massa di persone che abitano e consumano l'energia nel pianeta. C'è sempre da sperare in qualche maniera che prima o poi si torni invece a parlare di quello che è il senso di popolo e di nazione, sperando che non lo si faccia nella maniera sbagliata, come troppe volte già successo nella storia. Invece volevo osservare a Latere, hai visto Putin come sta bene? Doveva morire, sì, doveva morire da un giorno all'altro. È un po' molto interessante, dove hanno elencato tutte le malattie che gli hanno attribuito in questi due anni, ma veramente dall'Ala a Z c'erano praticamente tutte, mancava solo il ginocchio della lavandaia. Invece questo sta in piena salute. Poi giustamente ha citato il Nord Stream, abbiamo dovuto credere che due ucraini ubriachi disubbidendo Zelensky si sono calati con la tuta da palombaro a far saltare sta roba. Ma ragazzi, capite che non c'è nulla di serio. E poi, per esempio, proprio per l'energia, nel frattempo noi abbiamo dovuto andare a comprare il gasificato, da degassificare, o rigassificare, scusami, e quindi la questione dei porti, di costruire impianti, pagandolo appunto il 50% in più. Ma sai che allegria! Ma voglio dire, ma abbiamo fatto di tutto per farci del mare da sole. Io spero che il popolo tedesco, che vive soprattutto di un'industria, che vive di gas, a questo punto si ribelli decisamente. E lo stesso Scholz, per non essere seguito con la pece e le piume, dovrà fare qualcosa. La vera fregatura è che l'indotto italiano, soprattutto nel nord Italia, che è molto importante, che lavora per tutto l'automotive tedesco, va altrettanto in crisi. E quindi siamo legati a filo doppio. Speriamo che se ne rendano conto.